E ora viene Carlo Ossola. Ma anche Carlo Ossola non ha nessun bisogno di essere presentato. Mi piace solo dire per i più giovani, o per i meno diversamente giovani, come oggi si dice, che anche Carlo Ossola si è laureato a Torino. Tutti noi abbiamo avuto come maestro Getto, che mi piace ricordare qui, e che ci ha fatto amare Dante con i suoi aspetti della poesia di Dante. Poi naturalmente ciascuno ha preso la sua strada. Carlo Ossola ha insegnato a Ginevra letteratura italiana, a Ginevra, a Padova, a Torino, poi per lunghi anni al Collegio de France. Adesso è direttore dell'Istituto di Studi Italiani di Lugano. Tra i suoi molti e notissimi libri su autori e secoli da Dante al Novecento, vorrei solo fermarmi a quelli su Dante e ricordare una sua introduzione, fatta in anni lontani, quando era molto giovane, insieme alla traduzione italiana di Dante e l'Islam di Asim Palacio. E insieme a questa, diventata, appunto notissima e citatissima, la più recente introduzione alla Divina Commedia pubblicata da Marsilio. E a Torino mi piace ricordare, mi è caro ricordare, la sua Lectio Magistralis su Dante al Salone del Libro nel 2012 e la lettura Dante che io non ho potuto ascoltare ma di cui ho letto molto al Collegio de France. E ancora a Torino quest'anno, a maggio, la presentazione di un'opera importantissima come gli studi danteschi di Francesco Mazzoni e molto più recentemente, a settembre, cosa che appunto ho letto dai giornali, una sua conferenza, forse un ciclo di conferenze al Teatro Alighieri di Ravenna su Dante. Anche lui, anche di lui non voglio dire altro, limitandomi all'essenziale per lasciare più tempo a lui di dire e a noi di ascoltare. Grazie. Sono molto grato a Maria Luisa. Giovanni Getto che, proprio 60 anni fa, con quel saggio straordinario chiusura del suo volume, apriva una nuova via per leggere il Paradiso, restituendo la commedia a tutte e tre le cantiche, e non solo due. Fino a quegli anni, la Dina Commedia, almeno da parte italiana, certo non altrove, era un poema che terminava, grosso modo, con l'apparizione di Beatrice. E noi abbiamo tutti beneficiato di questa lettura, e credo che oggi, quando un giorno si farà un bilancio, i contributi torinesi alla lettura di Dante non siano certamente di secondo piano. E su tutti ricordo, anche perché non sono più tra noi, Angelo e Stefano Iacomuzzi. Non so se la lezione ne sarà degna, ma mi è caro anche ricordare la nostra comune amica maestra Maria Corti, nel centenario della nascita, in signe d'antista, e infine, per i miei anni ginevrini, una persona purtroppo oggi dimenticata, ma che ha scritto uno dei più bei libri sulla Dina Commedia, e cioè Roger Dragonetti con il suo Pelerin de la Sainte Face. Vengo al tema che mi sono dato, che è un tema molto letterale, seguendo proprio, direi, l'epistola a Can Grande, e cioè il fatto che, nella lettura dei decenni recenti, a Dina Commedia è stata molto condizionata, e diciamo pure anche utilmente condizionata, da Il viaggio a Beatrice di Singleton, prima semplicemente negli elementi di struttura, poi nel suo volume completo, più e più volte riedito dal mulino e così via. E tuttavia è un titolo, diciamo, parziale, anche questo, perché se fosse un viaggio a Beatrice non avremmo gli ultimi tre canti della Divina Commedia. Questa è una poria che va detta subito, Beatrice se ne va, al trentunesimo canto Dante non la vede più. Quindi non si può pensare alla Divina Commedia letteralmente come a un viaggio a Beatrice. Dopo si possono, naturalmente, enfatizzare le parole che Dante scrive alla fine della vita nuova, si può pensare che questo poema d'amore completi la tradizione della lingua doc, tutto quello che si vuole, ma non è la lettera del testo. E perciò dobbiamo prenderne atto e di qui partire, da parte mia farò soltanto qualche considerazione intorno alle guide di Dante, cioè Virgilio, Beatrice e San Bernardo. Già se si leggesse, come dire, con cura il modo con cui Virgilio presenta se stesso nel primo e nel secondo canto dell'Inferno, vedremmo che Virgilio dà, fin da principio, e dunque Dante autore, una struttura di guide che dovremmo tenere a mente, ed è nella parte, diciamo così, centrale del secondo canto. Virgilio viene riconosciuto da Dante e poi Virgilio stesso racconta come è stato inviato a Dante. È stato inviato da Beatrice, anche questo è un verso celebre ricordato da Gianluigi, io son Beatrice che ti faccio andare, venio dell'occo, veu tornare, disio amor mimosse che mi fa parlare. Soltanto che questa indicazione è accompagnata da altri, diciamo così, vettori, Mandelstam direbbe da altri vettori di un missile, l'ha proprio scritto nella sua conversazione relativa a Divina Commedia, cioè Donna è gentil nel cielo che si compiange di questo impedimento. Questa donna manda Lucia a parlare a Beatrice affinché Beatrice muova Virgilio. La donna non è nominata perché si sa in tutto l'inferno Dante non nomina mai le persone divine e neppure la Madonna che in certo modo, come vedremo, vi appartiene strettamente perché è un luogo di dannazione, di pena, di negatività e quindi non si può nominare. Quindi Donna è nel cielo è Maria che manda Lucia, che manda Beatrice, che manda Virgilio. Potremmo dire che fin dal secondo canto dell'inferno la struttura delle guide, la struttura di coloro che devono condurre Dante, sorreggerlo, indirizzarlo, è ben chiara, è ben chiara. Non viene nominato San Bernardo in effetti e questo è un punto sul quale dovremo tornare. Ma, diciamo, Dante ci dà fin dall'inizio una certa, diciamo, preminenza, almeno nel potere di inviare, a Maria. Secondo punto è come i personaggi, guida, si presentano essi stessi. Ora, è stato molto, ed anche giustamente, sottolineato il carattere, diciamo così, ricapitolativo che ha Virgilio come guida di Dante. È come se portasse a Dante tutta l'eredità classica, così l'ha inteso Curzius. Virgilio è lì perché porta a Dante tutto il mondo latino di cui Dante è erede. Alla domanda a Curzius, ma perché lei ha messo come ultimo capitolo del suo libro letteratura europea e medioevo latino, un poema scritto in volgare, Curzius rispose perché Dante ha ricapitolato tutta la tradizione latina classica e medievale. Quindi è indubbio che questo carattere è evidente. È evidente anche il carattere che Virgilio porta alla commedia, lì comparetti l'ha sottolineato molto bene, e cioè il fatto che come Virgilio è il cantore di Roma, così Dante è il cantore di quella Roma onde Cristo è romano. Cioè della nuova Roma che la cristianità ha rifondato sulla prima, sulla prima Roma, e in più nell'anno del giubileo, 1300, è vero che Dante condanna Bonifacio VIII, però forse la Dina Comedia è il poema che rende più onore a questa scelta strategica di Bonifacio VIII, e cioè che ormai è sufficiente il viaggio a Roma. Poi per altre ragioni Dante mette all'inferno il suo contromodello, ma il modello è quello. Allora, certamente la presenza di Virgilio è decisiva, è importante, del resto è anche per numero di canti quella che dura, per così dire, più a lungo. Ma se noi guardiamo come Virgilio presenta se stesso nel canto, non all'inizio, ma nel canto ventottesimo dell'inferno, cioè nel canto degli scismatici, dove troviamo Dolcino e dove troviamo Maometto, Virgilio si presenta in una maniera molto autocritica. Parlando di Dante, dice «Né morte il giunse ancora, né colpa il mena». Quindi Noè ha destinato all'inferno e neppure a salire solo al purgatorio, né colpa il mena, rispose il mio maestro. Ma per dar lui esperienza piena, a me che morto son, conviene menarlo per l'inferno, qua giù, di giro, in giro. A me che morto son. Si è passati un po' troppo leggermente su questa autodefinizione, che non è anagrafica, perché qui sono quasi tutti morti, quindi non c'è bisogno di sovraggiungere questo elemento. Va invece inteso nel modo, e porterò qualche allegazione, con cui Virgilio prende atto che egli appartiene alla morta gente, cioè coloro che non potranno fare più esperienza della vita eterna. A me che morto son. E Dante riflette proprio in quei canti, direi che l'esempio parallelo per mostrare che la qualità di morto è una qualità di assenza del beneficio della grazia eterna, pochi canti dopo appare uno dei personaggi che a me è più caro di tutta la divina commedia, e cioè Branca Doria, il quale è alla fine del trentatresimo, quindi siamo proprio giù, giù, nel fondo dell'inferno, è presentato così. «Elli è ser Branca Doria, e son più anni, poscia passati, che il fu si racchiuso», cioè incastrato nel fondo dell'inferno. Io credo di sì a lui, è una delle poche volte in cui Dante contesta la veridicità dell'informazione del maestro, che tu mi inganni, che Branca Doria non morì unquanque, e mangia, e beve, e dorme, e veste panni. E lì su, vivo, mangia, beve, dorme, altro da mettere accanto alle cose quotidiane, mangia, beve, dorme, e veste panni. Nel fosso in su di Sel, di Malebranche, laddove bolle la tenace pece, non era ancora giunto, Michel Zanche, che questi lasciò il diavolo in sua vece, nel corpo suo, ed un suo prossimano, che il tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oggi mai in quale mano, aprimi gli occhi, e io non gliela persi, e poi il canto va avanti. In sostanza, Dante dice che Branca Doria è lì veramente, vivo di morte, eterna, e, diciamo così, sopra la terra è rimasta soltanto una figura di paglia, direbbe egli o te, gli uomini impagliati. È rimasta solo la figura di paglia. Quindi il dato anagrafico, biologicamente morto, biologicamente vivo, è irrilevante, diciamo, nell'economia della salvezza, tanto che Dante fa vivere e morire, a seconda però dell'appartenenza, o meno, alla grazia. Branca Doria è ancora vivo, ma già condannato, sopra c'è una controfigura, e Virgilio dice di se stesso io che morto sono, devo guidare, non sta in fisso in qualche posto, o anche soltanto nel castello degli spiriti magni, ma io che morto sono, devo guidare questo Dante. Allora qui viene in mente il quarto del convivio, al capitolo settimo, dove coloro che non hanno saputo tenere il cammino, perché sono stati senza scorta, e perciò Dante prende scorte, tortiscono per gli pruni e per le ruine. E dice Dante, e tocca a tal che è morto e va per terra a maggior detrimento, dico, questo tale vilissimo essere morto parendo vivo. Quindi già nel convivio Dante ha un'idea piuttosto chiara di cosa vuol dire non accettando di seguire il cammino diretto, di avere qualcuno per guida, di essere morti parendo vivi. Potrebbe alcuno dicere com'è che è morto e va? Rispondo che è morto uomo e rimasto bestia. Insomma, è abbastanza severa la ipotesi dantesca. È un morto uomo, un morto che cammina, insomma, diremmo noi. Perché tutti coloro che sono disgiunti dalla grazia sono uomini morti che camminano. Ora, naturalmente io non voglio dire che Dante presenti costantemente la sua guida in questa maniera, ma che Virgilio a un certo punto della propria autorappresentazione si presenti come uomo morto non è senza conseguenze. Fa parte di quella strategia, direi proprio narrativa e teologica di Dante che egli applica alle proprie guide. Poi, certo, noi dovremo constatare soprattutto quando Dante deve prendere congedo da Virgilio, egli prenderà congedo da Virgilio con le parole stesse di Virgilio e saluterà la nuova guida e cioè Beatrice di nuovo con le parole di Virgilio Manibus Odate Lilia Plenis del Trentesimo del Purgatorio e con quel triplice saluto ma Virgilio ne aveva lasciati scemi di sé, Virgilio dolcissimo padre Virgilio a cui per mia salute diemmi. Appare poi Beatrice e qui il discorso diventa più delicato perché la Beatrice che appare a mio modo di leggere ma leggo il testo di Dante non appare come la Beatrice della vita nuova ma appare come un vero e proprio capitano una sorta di illustre virago classica tant'è che viene presentata subito così primo non saluta affatto Dante ma lo ramponia Dante perché Virgilio se ne vada non pianger ancora non piangere ancora che piangere ti conviene per altra spada tre volte nominato poco sopra tre terzine sopra Virgilio tre volte nominato qui piangere il saluto di Beatrice è completamente opposto a quello che Dante riserva a Virgilio e poi quasi ammiraglio che in poppa in prora viene a veder la gente che ministra per gli altri legni eccetera eccetera è un capitano di battaglia Beatrice dopo naturalmente Dante piange amaramente abbassa le guance eccetera eccetera ma Beatrice tornerà si capisce lungo tutto il paradiso la donna amata salvo che alla fine le ultime parole di Beatrice non sono affatto parole di donna amata amante non sono affatto quelle del canto quinto dell'inferno amor canullo amato amar perdona non c'è assolutamente reciprocità Beatrice si congeda da Dante come entrata in scena cioè come un duro capitano e per una volta diciamo fa un regalo a Dante ma un regalo che a quell'altezza del paradiso è anche molto stridente perché le ultime ultimissime parole di Beatrice sono un'ulteriore maledizione a Bonifacio VIII ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo ufficio che il sarà detruso laddove Simon Mago è per suo merto e farà quel dalagna entrare più giuso siamo alla fine del trentesimo del paradiso e c'è da domandarsi veramente quale sia la Beatrice di Dante almeno la Beatrice del paradiso comincia come l'ammiraglio e chiude con questa invettiva che poteva stare in bocca a Dante in qualche canto prima e invece in bocca a Beatrice forse chi ha capito di più questo ruolo molto strano di Beatrice non è un critico italiano ma è un poeta americano e cioè nella seconda serie dell'antologia di Spoon River Master presenta una Beatrice mi pare si intitoli Lea Santini ed è una Beatrice che si prende beffe di Dante dicendo ma mi guardava così tanto perché ho il buco al fondo dei calzini uno dei testi più mirabilmente parodici che appartiene però ha una tradizione minima di lettura della Divina Commedia ha dei grandi interpreti come in questo caso il poeta americano ma è strano che quando poi si mettano accanto le schede di Dante la prima apparizione e le ultime parole Beatrice non paia quella della della vita nova e neanche la donna angelicata e direi neppure e qui veniamo a un aspetto più di tipo teologico ma non annoierò sarà proprio per due minuti ma neanche io credo la figura della grazia perché da un punto di vista semplicemente di teologia medievale la grazia c'è fino alla fine se Beatrice fosse la grazia perché se ne va nel trentesimo non avrebbe proprio senso al più si potrebbe dire che Dante è un super ominista che si fa abbandonare dalla grazia per dire io vedrò da solo Dio ma Dante questo non fa perché anzi si fa accompagnare da San Bernardo ecco San Bernardo entra in scena dunque nel trentunesimo ed entra in scena come il cantore della Vergine questo è stato da tutti osservato perché deve preparare alla diciamo così alla preghiera alla Vergine anche qui sono sempre tutte iniziazioni San Bernardo sostituisce Beatrice per poter elevare a nome di Dante una preghiera che lo renda degno per l'intercessione della Vergine di poter vedere la Trinità direi che la parte finale del Paradiso è simmetrica al canto secondo dell'inferno cioè anche qui guide successive il che farebbe pensare come hanno visto nell'ottocento alcuni critici anche se poi hanno esagerato in quella direzione farebbe pensare che la Dina Commedia non sia non credo proprio un poema mistico e forse neppure un poema di visioni perché la realtà cala dentro fino al trentesimo del Paradiso ma sia invece proprio un poema di progressiva iniziazione un poema di iniziazione al divino attraverso tutto ciò che le guide umane possono fare e qui veniamo all'ultima parte che è quella che naturalmente mi è più cara proprio ricordando la lezione del nostro maestro quando si guardino queste ovviamente sono sempre utili le concordanze della Divina Commedia si vede che la presenza della Vergine è costante ovviamente a partire dal Purgatorio è probabilmente anzi direi sicuramente il nome che è più cantato da tutti i da tutti i Purganti e i Beati e ha un'articolazione di funzioni straordinaria partendo già da Purgatorio 3 non c'è quasi canto in cui Maria non sia nominata ovviamente nel Purgatorio appare prima come esempio di umiltà poi come esempio di carità poi come esempio di mansuetudine nel diciottesimo come esempio di sollecitudine nel ventesimo come esempio di povertà sottolineo in particolare nel ventesimo un elemento che teologicamente ha fatto sempre problema anche a getto ma la lezione lo diceva è scarsa la presenza dello Spirito Santo nella Divina Commedia ma proprio lì nel ventesimo abbiamo un'affermazione folgorante quell'unica sposa dello Spirito Santo come se lo Spirito Santo il che è una bella non dico forzatura ma certo almeno sottolineatura come se lo Spirito Santo non appartenesse principalmente alle altre due persone ma principalmente a Maria quell'unica sposa dello Spirito Santo ora in termini diciamo così degli Evangeli è evidente perché la nascita del Cristo avviene attraverso lo Spirito Santo però insomma diciamo che Dante qui ha un modo di presentare lo sponsale dello Spirito Santo con la Vergine con una forza assolutamente nuova e poi cominciano i canti che la riguardano anche nel modo di presentarla è talvolta Vergine talvolta nostra donna talvolta regina del cielo una regina tra l'altro è stato osservato ma io lo sottolineerei ancora di più la Dina Commedia non è un diciamo così un poema a parte Patris assolutamente no tant'è che nel trentunesimo la regina 116 117 la regina a cui questo regno è suddito non è la Dina Commedia non ha una figuralità di tipo regale nonostante Dante sia per l'imperatore la figurazione del regno di Dio è diciamo così mariocentrica e non è secondario questo la regina a cui questo regno è suddito e poi alla fine ovviamente il richiamo del cantare cantare dolce Maria il cantare Ave Maria eccetera cioè è costantemente è costantemente cantato non ritornerò su alcuni punti che in certo modo spero di aver dimostrato nell'introduzione appunto a Divina Commedia cioè il fatto che alla fine con uno stilema iconico tipicamente bizantino vergine madre figlia del tuo figlio è stato studiato da Auerbach che è arrivato quasi al 90% delle allegazioni per quella formula ma figlia del tuo figlio è proprio la traduzione in termini verbali di quello che Dante aveva potuto vedere andando a Roma nell'anno 1300 era appena stata inaugurata l'abside del Torriti di Santa Maria Maggiore dove come alla Martorana a Palermo come in una quantità di chiese di tutto il mondo bizantino in genere stanno di fronte la nascita di Cristo nelle fasce appoggiato così in verticale al petto della Vergine e dall'altra parte la nascita dell'animula della Vergine nell'eternità perché nel mondo bizantino la dormizio virginis non è una morte ma una assunzione quindi Vergine madre figlia nell'eternità del tuo figlio è un preciso stilema bizantino Auerbach aveva quasi visto bene anche perché era stato in molti anni appunto nel mondo che ancora qualche traccia del mondo bizantino aveva cioè in Turchia ora questa questa mettendo pur da parte questa lettura che però deve rimanere centrale cioè che nell'eternità la la parte diciamo così della elevazione umana attraverso la Vergine è altrettanto importante che la contemplazione della Trinità stessa ma c'è poi un altro segnale che mostra che la guida di San Bernardo è strategica e spiega molto la ragione per la quale Beatrice viene diciamo così congedata ed è questa e cioè che come è stato più volte osservato si incrementano a partire dagli ultimi dieci canti ma in particolare negli ultimi tre del Paradiso le comparazioni che si riferiscono al fantolin al fante a colui che bagna ancora la lingua alla mammella sono state prese non dico che non sia così ma è il grado più superficiale sono state prese come immagini di inadeguazione cioè il fante io sono di fronte alla materia divina così si balbuziente e infans incapace di parlare come colui che pargoletto bagna ancora la lingua alla mammella cioè si nutre dal seno ma non può parlare in realtà due studiosi francesi purtroppo in riviste cistercensi di difficile reperimento ma con una solida documentazione hanno mostrato che a partire dal 1315 quindi nel momento in cui Dante sta scrivendo il paradiso circola in maniera vigorosa in tutta l'Europa cistercense una vita di San Bernardo nella quale vengono riportati da tutti più miracoli due volte almeno della lactatio Bernardi cioè Bernardo come segno di distinzione riceve dal seno della Vergine il latte della sapienza per interpretare gli Evangeli eccetera eccetera sono anche state trovate delle miniature che rappresentano naturalmente la Vergine un po' di sbieco perché non era tanto elegante far apparire questo seno che fa zampillar latte nella bocca di Bernardo molto belle tra l'altro e non è da escludere che Dante se non viste abbia ad ogni modo avuto notizia di questi manoscritti che vorrebbe loro dire che nel momento in cui Dante ricapitola il poema e lo ricapitola sulla base del canto secondo dell'inferno lo ricapitola esattamente come ha fatto con Virgilio cioè cercando di diventare degno di quella guida che ha preso a testimone e quindi di diventare anch'esso se possibile fantolin degno della lactatio virginis se no con uno che ha già varcato l'esame sulla fede speranza e carità non c'è letteralmente bisogno di dire che è un infans sarebbe dare tra l'altro un pregiudizievole cattivo appeso le tre virtù teologali spesso per rivalutare la poetica umana nostra svalutiamo gli esami teologici che strutturano così possentemente gli ultimi canti della terza cantica questo è un breve riassunto di una comunicazione che ho fatto ai lincei spero che prima o poi venga fuori ma adesso vengo alla parte che mi è più cara che è specifica di questa giornata e cioè il fatto che anche dialogando con Lino a Firenze non dico che sia venuta fuori la convinzione ma sempre più c'è questo sapore che la parte autobiografica di Dante non sia da confinare solo nell'esperienza della vita nuova anche la Divina Commedia ha un tracciato autobiografico forte specialmente nel Paradiso non solo per l'incredibile durata autobiografica dei tre canti di Cacciaguida ma perché se noi dovessimo definire questa preghiera alla Vergine facciamo un po' come ci aveva insegnato Contini e cioè quello di commentare Dante con Dante proviamo a commentare Dante con Dante e cioè vedere come definire questo finire in sostanza con la preghiera alla Vergine e cioè nel nome di Maria e potremmo definire questo direi precisamente con il canto di Buonconte da Montefeltro che dice di sé nel nome di Maria Finio nel nome di Maria Finio ora questo è un personaggio particolarmente importante per Dante perché è l'unica battaglia vittoriosa alla quale Dante abbia partecipato la battaglia di Campaldino vincono i Guelfi contro i Ghibellini e Dante ancora Guelfo vincono e questo Buonconte è un personaggio mitico forse Dante ha anche magari visto durante la battaglia Dante poi torna sui luoghi quando è rifugiato in Casentino intorno al castello di Poppi Campaldino non è distante quindi ha un secondo ripensamento già esule di quel primo momento dove se sono vere le date 1265 ma quelle date lì noi le deduciamo da una dichiarazione di Dante quindi non è detto che siano poi quelle tutta un'altra tradizione vorrebbe che Dante scriva il poema nell'anno stesso in cui Cristo morendo ha meritato la risurrezione cioè nel 67 ma insomma poco importa aveva 22 anni al momento e certo quella immagine gli è rimasta impressa ora Buonconte dice appunto che ha fatto quel percorso che ha insanguinato il piano tutta una 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 piana quella diciamo della convalle di Poppi che è tracciata da questa gola forata che lascia cadere una striscia di sangue che marca tutta la fine della battaglia e come è stato osservato anche da poeti probabilmente nel nome di Maria Finio vuol dire che non riesce neanche a pronunciare oltre Ave Maria non dice ecco perché poi i diavoli dicono per una paroletta breve perché probabilmente riesce appena nell'invocazione a me pare molto bello molto suggestivo e anche ragionevole pensare che Dante voglia finire come buon conte cioè nel nome di Maria Finio con anche un gesto di umiltà e con un gesto che diciamo porta insieme i tre elementi che mi pare costantemente ritornino nella divina commedia cioè l'aspetto politico l'aspetto escatologico ma non di meno l'aspetto biografico proprio lì Ravenna da te ricordata ho potuto assistere lo dico perché è un uomo come dire protagonista della vita pubblica e spesso si pensa che quando si passa alla politica si dimentichino le lettere invece lì ha smentito questa ipotesi questa tradizione di lettura Massimo Cacciari ha fatto una splendida lettura del paradiso come un grande poema cristologico contro tutte le tendenze diciamo di tipo neoplatonico vale a dire di tipo ecco autorizzate per carità da certi passi del convivio motore l'empire o poi la luce che discende i beati che discendono per incontrare Dante come se fosse appunto un tipo di emanazione neoplatonica e invece prendendo e rovesciando diciamo lo schema dei liberà sulla luce Cacciari ha fatto vedere che Dante non dice vedo ma gli viene prescritto ficca gli occhi ficca gli occhi c'è una costante corporeità nella divina commedia che si accentua per certi aspetti proprio nel paradiso dove diciamo la trasparenza la luminescenza i fiumi di luce darebbero intendere che il poema si chiuda in una specie di grande epifania neoplatonica per concludere ecco dicevo questo aspetto escatologico che va contemperato con l'idea che l'invocazione alla Vergine prelude in realtà a una rivelazione cristocentrica perché cosa vede Dante nella Trinità vede il nostro volto al centro è il nostro volto se c'è una data di fondazione dell'umanesimo per me è il canto trentatresimo del paradiso è la prima volta che il segreto per così dire della Trinità è rivelato con il nostro volto e questo è tanto più importante poi davvero chiudo perché nelle ultime terzine del trentatresimo del paradiso Dante ammettiamo pure che questa sia una visione anche se ho detto delle riserve ma se anche una visione è una vision rapporté vale a dire che Dante comincia già a parlare all'imperfetto cioè parla come colui che è già tornato in terra riferisce di cosa trascorsa e quindi quando Dante parla della Trinità non è per rivelazione ma per memoria addirittura noi abbiamo nell'ultimo canto tutta una serie di imperfetti e perfetti che ampiamente superano i pochi presenti che sono nelle terzine e quando si prenda questo finale che contrappone la vita nuova alla vista nuova sono proprio gli ultimi versi tutto è al passato quando egli dice appunto tal era io a quella vista nuova veder voleva come si convenne non come si conviene l'imago al cerchio e come vi si indova qui le pagine del nostro angelo ma non erano da ciò le proprie penne se non che la mia mente fu fu percossa da un fulgore che in sua voglia venne all'alta fantasia qui mancò possa ma già volgeva è tutto il finale è tutto al passato il che vuol dire se i verbi hanno ancora un senso che questa consapevolezza dantesca è quella di una relazione di quel che la memoria conserva di una visione della quale può riferire con relativa coscienza perché la visione che ha visto è come noi siamo la visione che ha visto è una visione di tipo cristocentrico ecco dunque con questo termino che a me pare che prendendo proprio Dante alla lettera il modo con cui egli annuncia e poi si fa abbandonare dalle guide porti a una lettura finale come diciamo così se la formula può valere quella di un poema che non è un viaggio a Beatrice ma è un viaggio a Maria inteso come un trionfo appunto degli aspetti umani che nella Vergine e nel Cristo quindi un poema fortemente incarnato che a mio modo di vedere non già congeda il Medioevo non già compie il Medioevo ma fonda l'umanesimo grazie 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 a tutti